avrebbe solo voglia di celebrare alla grande già ha ricevuto una sorpresa dalla moglie giorgia palmas che per fargli gli auguri alla mezzanotte l'ha portato a cena da carlo cracco nel ristorante stellato in galleria vittorio emanuele secondo filippo magnini invece ha un brutto risveglio nel giorno del suo compleanno il movimento anti suv gli sgonfia la ruota dell'auto a milano il neo 42 n racconta tutto sul social oggi è un giorno particolare è il mio compleanno quindi poi leggerò tutti i messaggi che mi state scrivendo guarderò tutte le storie che state mettendo su instagram però vi strappo un sorriso vi voglio far vedere come è stato il mio risveglio nel giorno del compleanno cosa si stanno inventando adesso guardate un po dice in un video postale l'ex campione di nuoto in un'altra clip mostra un tecnico che sta rimettendo in sesto la gomma del suo suv filippo mostra anche il foglio che ha trovato sulla macchina firmato the tire extinguishers si legge attenzione il tuo suv uccide abbiamo sgonfiato uno o più dei tuoi pneumatici ti arrabbierai ma non prenderla sul personale non sei tu è la tua auto l'abbiamo fatto perché andare in giro per le aree urbane con un'auto così enorme a conseguenze altrettanto enormi per gli altri per i tire extinguishers si suv sono un disastro per il clima la salute e la sicurezza pubblica questo tipo di protesta è cominciata marzo 2022 e continua secondo gli attivisti alla base della scelta di chi possiede un suv c'è solo uno status symbol non abbiamo un leader chiunque può partecipare stiamo intraprendendo questa azione perché i governi ed i politici non sono riusciti a proteggerci da questi enormi veicoli vogliamo vivere in paesi e città con aria pulita e strade sicure protestare educatamente per queste cose è fallimentare e tempo di agire chiariscono anche sul loro sito dedicato